Agostina Belli, un premio europeo, un premio importante proiettato a tutto il continente? Io sono fortunatissima perché è il secondo premio che mi assegnano e devo dire che la prima volta è stato per me un anno fortunato dopo questo premio, quindi mi auguro che sia altrettanto. Cosa farà Agostina Belli a Natale e a Capodanno? A Natale e a Capodanno forse andrò in montagna, però non sono sicura, ma altrimenti resto sul lago, il lago di Bracciano, scelto da Tom Cruise, quindi meglio di così. Agostina Belli, un augurio a tutti i nostri spettatori per un sereno Natale, un felice anno nuovo, se vuoi fare? Volentieri, io vi auguro di realizzare i sogni che avete nel cassetto.